È un bel nascondiglio, è un bel nascondiglio, è un bel nascondiglio, sì Dimmi che il missile non è per me No, ok Ok, io ho avuto paurissimi Ok, io ho fatto meno vista Adesso arriva qua, accidenti E finisce in questo modo E ragazzi, come va? Io sono Ferini E io sono Steph, che stai giocando a Forna E benvenuti nel nuovissimo episodio di Fortnite con una nuova sfida Già, e questa sfida è davvero complicata Lo diciamo ogni volta Ma questa sfida sarà complicata in un altro senso Nel senso che il nostro obiettivo sarà quello di vincere una partita Ammazzando soltanto gli ultimi due player che restano in vita Quindi per tutto il game noi dovremmo scappare da qualsiasi player che incontreremo Evitare i fight come la peste Evitare i fight in tutti i modi, costruendo, correndo, stando nei bordi della mappa Cercare di arrivare alla fine, fine, fine E ammazzare gli ultimi due e vincere così Della serie, come complicarsi la vita per vincere un game Esatto Allora, Fer, la prima cosa importantissima in un game del genere È andare in un posto dove non scende nessuno Assolutamente, sì Dove c'è qualcuno ci tocca scappare Come pazzi siamo già morti Quindi, dove possiamo andare? Alla prigione ci va di sicuro gente Non è un bel taglio questo, eh Ti dico Queste casette qua Proviamo, ma ho paura che scenda qualcuno Dovremmo anche poi stare attenti a corso commercio Quando andiamo via Dovremo stare molto attenti Però comunque, teoricamente lì non scende nessuno Allora, buttiamoci giù Concentrata, guarda tutto intorno Costantemente Assicuriamoci che non ci sia nessuno Perché altrimenti viriamo all'ultimo Perché un po' di posticini dove andare qua ci sono Sì, 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 certo Anche se, te l'ho detto Dai, secondo me ci sono due casette in croce Lì, non sono niente mai andato Credo da quanto faccia schifo Non lo so Sono davvero piccole Quindi non penso che sia un po' scambito Cos'è un distributore? Cos'è? Allora Intorno non mi sembra di vedere nessuno Neanche a me Ho visto un sacco di gente nella città Oh, mamma mia Ovviamente Ci sono una ventina di persone in quella città Fare, dovremmo stare attenti È normale Ok, allora Mi raccolgo questa trappola al volo Dopodiché Andiamo in questa casa E speriamo che ci sia almeno una cesta Quindi devo mettere l'altra cuffietta Che altrimenti le ceste neanche le sento E mi sa che non c'è Ho trovato due trappole Bene Io ho trovato una cesta Ma bah Una mitraglietta Quindi bah Bah Allora, Ferri Inizio a prendere materiali Perché tanto più che armi Qua ci servono Materiali a non finire Materiali a non finire In realtà poi le armi ci servono Perché Sai Se arrivo due contro due Almeno vorrei la certezza Di poter vincere il fight Eh, ma siccome la strada Per arrivare al due contro due è lunga Ci servono tanti materiali Sì, sì, sì Infatti guarda Sto pensando di arrivare a mille di legna Ma forse arrivare anche A mille con qualche altro materiale Proprio per poter costruire Sì, sì, sì Ci starebbe Vero Vero, 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 vero Comunque prendiamo tutto Io non ho neanche un'arma Non ho proprio trovato nulla di nulla Bene E siamo fuori dalla zona Di parecchio Però Ok, bell'inizio No vabbè, Ferri In realtà star fuori dalle zone In questo momento Sarà il nostro obiettivo Beh Non vogliamo attirare Eh no, ok Non vuoi attirare Ma non è che voglio stare anche sgregata Correre, basta Capisci È anche quello È una vita difficile La nostra La vita delle persone Che non vogliono combattere Esatto In un gioco in cui si spara e basta La potremmo chiamare la Gandhi Challenge, Ferri Dato che non dobbiamo ammazzare nessuno Non ce l'ho e non ho altro, diciamo, di buono E quindi ho spazi liberi Ma la prendo molto volentieri Diciamo che tra le tante cose leggendarie Preferirei trovare altro Mettiamola così Ovvio, però se trovi questa Di certo non la mollo lì Allora Io mi sono spostato un pochettino Ho trovato 50 di shield Che è very good Le M16 blu Diciamo che ho recuperato parecchio Il loot che non ho trovato nell'altro posto Quindi adesso sono messo abbastanza bene Oddio Però Siamo già in 59 Quindi 40 persone meno da ammazzare Ma questa non l'hai fatta C'era una casa a mezzo rotta Di fronte proprio E tu non l'hai fatta Vedo proprio una cesta Eh vabbè Meglio 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 Prendi 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 Ferri player a 30 gradi Sono andati in questo momento Dove noi stavamo lutando prima Ok Ma davvero? Li vedo a spaccare tutti Io me ne vado Sono ancora lì di fronte Vieni Il problema è quello Vieni Vieni Aspetta che devo spaccare per uscire Muoviti Muoviti E stai zitto che mi metti anzi Dai Ferri Via 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 Che se ci vedo nella fine Ok stanno suonando una casa Quindi stanno controllando Nella speranza di trovarci qualcosa Non se ne sono accorti Che è già tutto il luttatore A quanto pare no Era tutto rotto Io ho spaccato un sacco di soffizia Continua a prendere legna Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Allontaniamoci Allontaniamoci Maledizioni Quanto li vorrei ammazzare Guarda che Forse è più difficile Non tanto per Diciamo Il non farsi vedere O cose del genere Ma è per rinunciare alle tentazioni Eh lo so Lo so Però dobbiamo Dobbiamo essere saldi Fermi mentalmente Fino alla fine Ho voglia di sparare Con questa strada Teoricamente Ahia Sbattuto sul microfono Stiamo evitando Corso commercio Che di sicuro Ha un botto di gente E dovrebbe essere Abbastanza safe Quanta legna hai fare? Eh 101 100 di mattoni E 37 di metallo Stai facendo un po' schifo Con i materiali Sì 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 Mi dai due scillini Così io mi faccio Lo scill... Sono miei Fare Dammi due scillini Oh che noioso Fammi raccogliere la legna Dove sei? Dammi due scillini Sono qua Sono qua Eccoti qua Dai su Dai brava Guarda ti spacco anche questa pianta Non si può Ne ho altri due Quindi va bene Lo so Ho visto il tuo schermo Uno Spione Due Così almeno 100 di scille Posso sopravvivere Se qualcuno mi spare Devo scappare Arriviamo abbastanza vicini alla zona Ci spostiamo in un punto Dove probabilmente Non arriverà gente Mi sparano Mi sparano Devo scappare Li ho visti Li ho visti Li ho visti Li ho visti Via 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 Vieni via Vieni via Me l'ho buttato giù Devo andare da solo Bravi Vero? Via 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 Ok Ok li ho anche visti Erano abbastanza vicini Eravamo troppo vicini Troppo tempo a prendere materiali In un posto così rischioso Vero? Dovevamo arrivare nella zona Posizionarci bene Poi prendere i materiali Solo dopo Sono d'accordo Vai Non so quanto sarà semplice Teoricamente Adesso Ho complicato L'uno contro due Finale Però ho semplificato Il non farmi notare Perché una persona Fa meno casino di due persone Dimmi sia o no No Vabbè vai Ascolta Tanto non ti sono io Teoricamente come posso vincere Se poi non ho roba bella Certo certo Quello si Capisci E c'è anche la cesta Nella barchetta Anche quella ti dovresti prendere Quanto sto rischiando Quanto sto rischiando Allora Cesta almeno dammi una buona notizia Ok 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 Questo shield è ciò che io volevo Perfetto Poi facciamo così Andiamo veloci Andiamo veloci Quello lì è un fucile a cecchino Eh sì Qualcosa di bello Ti hai trovato Che io non vedo nulla Quello che volevo Il lanciarazzi leggendario Perfetto Allora adesso non ammazzare Sarà impossibile Te lo dico Nel senso Se mi sparano Io sparo con i lanciarazzi Poi se esplodono È colpa loro Che hanno preso il missile No Certo Allora Mi tolgo il pompa Sto game Ma va facciamo così Quindi cecchino Lanciarazzi Oh mamma mia Che spettacolo Sono messo da dio Fere Siamo 18 vivi Sto passando dal lago del bottino Che è una roba Abbastanza rischiosa 250 di materiali Perché io non vedo un accidente Non so perché Quando guardi Non puoi vedere anche l'equipaggiamento È una cosa un po' triste Quindi mi tocca vedere il tuo schermo Senza ammazzare dei player Arrivare a tanti materiali È sempre difficile Soprattutto perché poi Quando spacchi i materiali Ti fai anche notare Esatto E quindi che fai? Li prendi e fai rumore Ti fai notare Rischia di essere sparato Esatto Oppure Ne prendi meno È un casino È un casino Comunque 363 Se voglio fare quello che devo fare Non bastano Quindi Per forza devo continuare A prenderne almeno un po' Andiamo almeno Sì 100-700 Secondo me Sì sono d'accordo Sono d'accordo Sparano Occhio 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 Da lì? Sì li vedi Li vedi Costruiscono e sparano E si stanno sparando sotto Mamma mia Oh cavolo Ma che tristezza Non poterli prendere Guardali Aspetta Però lì mi sembra Guarda 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 la tentazione Pim Pim Ce l'avessi preso Mille volte Pim Pim Canto mi ha detto Ti avrei ucciso Maledizione Guarda è fermo per due ore Uh anche quella lancia razzi Ok Oh hai notato Quello che ha appena fatto La costruzione in metallo Il problema Quindi mi sembra che siano Due contro due Esatto Ok Se continuano A farsi arrabbiare tra di loro Non mi noteranno mai Però non sono sicura Che questi due siano assieme Mi sta venendo qualche dubbio Ah sì guarda Stanno andando anche sul suo building Ma questo è troppo Cioè è troppo E beh effettivamente Guarda anche questo Bim Che bella testolina Sì gli ha riparato il building Gli ha riparato il building Sono insieme Ok E ti dicevo Ogni volta che vuoi sniperare Aspetta Guarda lì Guarda lì Ok Erano rimasti due contro uno Ok E mi sa che No 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 Ancora vivo Ancora vivo Che delirio Ok li hanno ammazzati Sono rimasti quelli che avevano l'RPG Uno a terra Uno no Mamma mia Quanto vi potrei sniperare anche a voi due Adesso Dicevo Nelle partite normali Quando vuoi sniperare Cioè è sempre i bersagli Che sono delle gazzelle Adesso che poi È quello che si beve lo shield È quello accucciato È quello che lo rianima Cioè vabbè Io spero soltanto che non mi notino Perché adesso loro se ne dovranno andare via E spero che non passino da qui Ma che passino dalla città Se passano da qui È È durato È durato 12 persone Quindi ne posso incontrare 11 di cui 2 ce li ho di fronte Quindi mancano altri 9 player all'appello Io sono fuori dalla prossima zona Oh Chiude a pinnacoli pendenti il gioco No però Ma mi vuole male per fare questa roba Fa una cattiveria Stefan Fa una cattiveria Ok Correte dritti Non salite qua Non salite sulla montagna Correte dritti per la vostra strada Qua non c'è nessuno da ammazzare Non ho un RPG leggendario Ok State tranquilli Calmi Pace e amore Dove sono finiti? Eh boh Non posso controllare Stanno salendo? Non lo so Se non li vediamo in città Stanno salendo la montagna Molto probabilmente Allora Tengo questo fucile pronto Perché Per bellezza Perché non è che puoi farlo Per fargli paura Ah ecco Nel caso devo tipo salire la montagna E scappare così? Non lo so Eh non so Allora Allora Ha iniziato a chiudersi la zona Ok Quindi teoricamente loro comunque stanno correndo Ok E ma rischio di incrociarli Sì 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 Dov'è la parte migliore dove stare adesso Secondo te? Non lo so La cosa che io faccio È seguire la zona così Abbastanza ridicola come cosa Lo so Lo so E anche tanti rischi Raramente qualcuno sta Accuciato a seguire la zona Quindi probabilmente stanno correndo E non li dovresti incontrare Perché sono molto più avanti di te Tecnicamente Sì il problema è dove andare Non appena arriva dentro la zona Lì c'è pure un altro Porca miseria Porca miseria Andiamo a zona su Con calma Facciamo con calma Che qua devono morire ancora 11 player Questi sono quelli vero? Sì 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 Quasi sicuro sono loro Ok Allora Allora sono distratti dalla costruzione Corri e nasconditi Nasconditi dentro la zona Perché mi sembrano abbastanza intenti a costruire Sì Allora mi nascondo Quindi non mi sembra che ti possano notare Ok Ok È un bel nascondiglio È un bel nascondiglio Sì Dimmi che il misterio non è per me No Ok Ho avuto paurissimo Anche io ho fatto meno vista Adesso arriva qua Accidenti E finisce in questo modo Sarebbe triste Sotto un albero così Che poi fammi vedere quanto è grande la zona ora Allora Abbiamo questa zona adesso Eh cavolo ancora 12 Guarda dove chiude Non credo di aver mai fatto Un game dove chiude Il pallino perfetto su pinnacoli Allora vantaggi e svantaggi Sì perché Gli svantaggi è che non capisci più dove è la gente Nei palazzi Però il vantaggio è che ti puoi nascondere bene Esatto I palazzi comunque danno molta copertura Senza bisogno che tu per forza costruisca Quindi Saree tu non senti ciò che io sento No sento sento Se lo vedo Stef Ma che devo fare Non puoi combattere Allora Se sparano verso destra Vuol dire che verso destra ci sono player Teoricamente quindi Eh ma lì ci sono quelli Eh lo so Ma se io sto sotto la montagna Loro non mi vedono E nel mentre entro dentro la zona Poi ripeto Sono molto intenti a combattere quelli Quindi magari non Non ti notano per questo motivo Non hai idea Si stanno smitragliando Eh Almeno quattro player che fightano ci sono Oh mamma mia Almeno quattro che fightano Uno è morto perché sono diventati undici Sì Dieci 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 Due morti Ok Forse ti conveniva uscire poco poco fuori dalla zona E fare il giro più largo Perché qua ti fai Cioè penso che ti fai notare No 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 Va bene va bene va bene va bene Corri 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 Allora per ora posso stare qua così Eh Bello sì Bello staff Molto 45 secondi Mi dovrò muovere di nuovo Ok Posso incontrare ancora nove player Buona probabilità quindi ancora di trovare gente Dai se arriviamo almeno nei quattro Cinque diventa fattibile Sparano di nuovo Potrebbero morire altre persone Io spero che sparino Soprattutto quando mi dovrò muovere Perché così magari mi notano Eh certo 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 Ok Anche perché tra poco ti devi muovere Sì 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 15 secondi Vediamo un attimino Perché abbiamo fatto una sfida del genere Non bastava vincereci un game No Pula è pensata Ok Allora XtraKiller ha tramortito Ebalom Che l'ha finito di ammazzare E siamo in nove Ebalom Come si dice Ebalomatele Ebalomatele Ce l'ho fatta a leggerlo Accidenti Ok nuova zona Ok vai Guarda lì che bullano Vai Vai Ok 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 piano piano Muoviti con la zona sempre Piano 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 Vai Guarda che perfezione Vai 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 Hai visto? Sì Lì Guarda lì Eh sì sopra i tetti Ok 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 Sono ancora fuori dalla zona Però vedi la cosa buona è che è tanta copertura Che puoi entrare nella zona senza farti notare troppo Sì ma adesso dove vado? Eh non lo so Stai attento perché lì sopra ti vedono Altrimenti Sono belli alti Lo so Veloce veloce mentre bullano La bancarella Uh Via 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 che se no fa rumore Dimmi che non è per me È per me Via 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 Aiuto Ma come hanno fatto a notare? Non lo so È bruttissimo È bruttissimo con i missili che arrivano Ok Per ora sono salvo Sanno dove sono Missili Mi vogliono sondare il palazzo? Può essere Sì lo stanno facendo Sì Vabbè o gli finiranno che ne hanno 200? State buoni State buoni Che poi vi sparano altri Io ripeto Non capisco come hanno fatto a vederti lì dentro Non l'ho capito Cioè ok che hai preso la cesta Non l'ho capito Erano troppo lontani per sentire il rumore Lo so lo so lo so Come è possibile? Allora sono completamente dalla parte opposta di dove dovrei essere Ho un rumore incredibile della barriera Quindi anche se mi entra gente in casa neanche li sento E ci sono sei persone vive di cui due di fronte a me in altissimo Che sono per il più dentro la zona Che quindi sono stra in vantaggio Allora le carte sono tutte a tuo sfavore Steph te lo dico Beh lo erano fino all'inizio No no così proprio totalmente Totalmente a tuo sfavore Allora Se i player non si stanno sparando Mi sa che tutti hanno paura di quelli lì Perché sono nel punto perfetto Hanno una bella fortezza E hanno l'RPG Si sono fatti la La torre Hanno iniziato a sparare a qualcun altro credo Ok Sì verso lì hanno sparato questa volta Ok 30 secondi mi devo muovere Comunque la zona dovrebbe essere meno rumorosa Lo so Non si sente nulla Allora ho un'uscita di sicurezza Sparano missili Che poi la zona è proprio verso quelli là C'è ancora peggio guarda Lo so Pieno pieno Ok Magari sono distratti Vedono qualcun altro Magari hai fortuna Ora come faccio Ho visto costruzioni là È pieno Le vedi quelle scale Questi qua Che triste Siamo in sei Quindi ci sono cinque persone vive Ok C'è una porta poi da qui Vabbè Altra cesta Finisci È un labirinto Accidenti Cavola anche quella cesta lì è stato un peccato Eh vabbè Prenditelo Ma l'hanno lottata sta città che è pieno di Ok sparano Cioè è strapieno di Come si dice Di chest Di medico Aiuto Oh cavolo che brutti rumori No Steph Steph No Ho dovuto Te la conto per buona Ma non lo è Tanto non era comunque buona Non lo dovevi Tecnici Porca miseria Lo sapevo che dovevo uscire da questo palazzo Porca miseria Cinque di cui due erano questi Io E ce ne erano solo altri due Ma ragazzi Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao